La quarta di ritorno vede l'Olimpia agnonese alle prese con il Castelnuovo Avomano, terza forza del raggruppamento, meglio dei terramani, soltanto campo basso e noteresco. I Granata vogliono alimentare la speranza di una miracolosa salvezza, la garanzia della regolarità, odierna competenza del signor papale della sezione di Torino. I neroverdi si presentano al saluto a metà campo con una t-shirt, simbolo di disapprovo al fenomeno violenza sulle donne. Per la cronaca 6 minuti ed il terzino agnonese da costa effetto a una traversone che si spegne sull'esterno della rete. Qualche istante più tardi Sosa nei 16 metri avversari, corsa del pallone arrestata da foglia in maniera regolare a giudizio del direttore di gara. Al diciottesimo scorrettezza ai danni di Sosa che resta dolorante a terra l'azione prosegue per il vantaggio. Abercon di potenza fa secco Livieri per l'1-0 dell'Olimpia agnonese. L'Ira Bruzzese si fonde con questo calcio piazzato di Loviso che non fa male in alcun modo a Caputo. Di nuovo Lagnone, barbato dalla destra, si lascia ingolosire dalla conclusione. Il suo diagonale si perde a lato. All'avventottesimo i locali restano in dieci. Di Lollo già munito commette un fallo a metà campo. L'arbitro lo manda in largo anticipo sotto la doccia. Nonostante l'incidente di percorso i molisani sfiorano il raddoppio. Tankulic guadagna il fondo. Portiere fuori causa. Sosa non griffa per un soffio. All'39, ospiti alla controffensiva di Ruocco da fuori, il portiere locale non si fa sorprendere. Minuto numero 43, punizione dalla Mancina. Loviso la scodella leggera sul primo palo. Caputo respinge corto. Uno scaltro fagioli. Non deve far altro che appoggiare in rete il gol dell'1-1. Parziale al duplice fischio del signor Papale. Secondo tempo, grazie al contributo tecnico di Antonio Di Perna, la terza della classe impiega soltanto 90 secondi. Per rimettere le cose in proprio favore, Loviso pennella per lo stacco preciso di Indoiè, che non lascia scampo al portiere. Passano a condurre i terramani, che chiedono anche la massima punizione, non comandata dal direttore di gara. Per questo tocco dubbio di Nicolopoulos all'interno della propria area. Al decimo Sanseverino premia l'inserimento di Di Ruocco, che la indirizza male verso la porta difesa da Caputo. Ancora lavoro per la nostra Moviola. Questa volta è Lagnone a protestare. Cross di Da Costa interviene Foglia. Anche in questa occasione, la Terna decide di sorvolare. Al diciannovesimo si rivedono gli ospiti nella circostanza con Croce. Il pallone è di poco alto, sopra la traversa. Lagnone resta in partita e lo dimostra al ventottesimo. Sosa viene servito sulla corsa, cuoio sul palo dopo la segnalazione di fuorigioco da parte dell'assistente. Quando siamo ad un quarto d'ora dalla fine, vicina al Triss alla squadra di Di Fabio, Croce dalla sinistra. Pallone nella mischia, manovra ultimata da Emili con il riflesso di Caputo che tiene in piedi Lagnone. Emili nuovamente sugli scudi, interessante il suo rasoterra dove Nicolopoulos in qualche modo completa il disimpegno. Termina 1-2 dopo soli tre minuti di recupero. Enesimo KO per l'Olimpia agnonese che interrompe però il silenzio stampa per rimarcare l'impegno di squadra, staff e società. Malgrado le avversità prosegue il sogno del Castelnuovo a Vomano che con una salvezza quasi ipotecata si gode un posto tra le prime posizioni.